Avventura finita ancora prima di cominciare, atteso e annunciato per mesi lo stop alla candidatura olimpica di Roma ai giochi del 2024, ora è ufficiale. La sindaca Virginia Raggi si presenta davanti ai giornalisti in conferenza stampa ed ecco le sue parole. La nostra posizione è dai responsabili dire sì a questa candidatura. E' dai responsabili, l'abbiamo detto con forza in Aula Giulio Cesare a giugno del 2015, eravamo in quattro. Lo abbiamo ribadito in campagna elettorale e lo diciamo qui oggi mantenendo una posizione. Non abbiamo mai cambiato idea, anzi abbiamo rafforzato la nostra idea sulla base degli ultimi dati. Non ipotechiamo il futuro di Roma e dell'Italia, no, non intendiamo farlo. Con queste olimpiadi di fatto, con le olimpiadi, quello che si chiede è di fare, di assumere altri debiti. Altri debiti per i romani e per i romani. Per tutti gli italiani, questo è quello che ci viene chiesto. Noi non ce la sentiamo, sinceramente. Per il presidente del CONI, Giovanni Malagò, un duro colpo. Si presenta in Campidoglio per l'incontro, fissato dalla stessa Raggi per il primo pomeriggio. Di lei però nessuna traccia, solo un breve ritardo. Si difenderà poi la grillina. Avevamo un appuntamento anche oggi, purtroppo io ho avuto un contrattempo, ho fatto qualche minuto di ritardo. Mi dispiace molto che proprio il presidente, nel momento in cui io entravo nel palazzo e ho fatto avvisare che stavo entrando, abbia preferito andare via. Dal Campidoglio le attenzioni si spostano al CONI, dove Giovanni Malagò racconta la sua versione dei fatti, non nascondendo rabbia e delusione per il no a Roma 2024. Noi ad oggi siamo obbligati a essere nella partita, poi se qualche duro si prende la responsabilità, in questo caso, una delle tre colonne portanti di un progetto di raggiatura, la città, il comitato olimpico, il governo, e noi lo dovremmo rispettare. Ma se è un atto formale, ma va motivato. E va motivato su un aspetto specifico, su come sono cambiate le regole del gioco. Ed è per questo che ieri tutta la nostra echepia di lavoro ha detto c'è qualcosa nel dossier che non vi va bene? Punto per punto c'è stata l'apertura su ogni argomento. C'è qualcosa che volete cambiare? Siamo disponibili a farlo. Ritenete indispensabile avere ulteriori certezze che non c'è nessun costo supplementare da parte del cittadino romano, perché ha costo zero per i cittadini romani. E non diciamo cose diverse, perché questo riesce da un recato. Benvenga a qualcuno che ha il passillo appunto della trasparenza, della regolarità, della correttezza. Perché quelle persone che hanno sostenuto questa amministrazione non sono certo delle persone che non vogliono che non si realizzi qualcosa. Ma vogliono che magari qualcuno che è stato votato garantisca che le cose funzionino. Perché se no non sei più un amministratore, sei qualcosa di diverso. Grazie. Grazie.